Il treno regionale in Italia è in partenza dal binario 1. Il treno regionale in Italia delle ore 17 e 10 per via Reggio è in partenza dal binario 6. Il treno regionale in Italia delle ore 17 e 10 per via Reggio è in partenza dal binario 6. Il treno regionale in Italia delle ore 17 e 10 per via Reggio. Il treno regionale in Italia delle ore 17 e 10 per via Reggio. Il treno regionale in Italia delle ore 17 e 10 per via Reggio. Il treno regionale in Italia delle ore 17 e 11. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.